Allora, per fare questa faccetta che lampeggia gli occhi, servono non tanti pezzi, però abbastanza. Mi serve un transistor, un condensatore, due led, poi la resistenza e basta praticamente, e la faccetta. Ok, è stato complicato assemblare tutto? No. Ma per far reggere tutto insieme come hai fatto? Ho soldato. E com'è saldare? Qual è la cosa più difficile un po' del saldare? Saldare è tenere il saldatore fermo, perché così allora è un pochino difficile. E poi scotta pure? Sì, scotta. Perché deve surriscaldare una parte? Deve surriscaldare lo stagno. A che serve farlo surriscaldare? Per bloccare i cavi o altri pezzi, tipo il transistor e le resistenze di condensatore. Sei contento di aver costruito questa cosa tutto da solo? Sì. Bravo. Ciao. Ciao.